Eccomi. L'ho detto che vi avrei ritrovati. In un paese perduto. Ehi ragazzi! Non credo che questo vagabondo sappia dove. Questa è la mia città. Ghillie! La vendetta... Parli un po' troppo. ...ha la mano ferma. E la giustizia... Andremo a stanarlo. ...un solo volto. Per il ciclo c'era una volta al Western. In a Valley of Violence. Nella Valle della Violezza. Martedì alle 21. Con Iris.